Musica Salve a tutti ragazzi, qui Medara e qua con me oggi c'è Marci del canale di MadaEffect Esattamente, allora ragazzi Siamo amiconi noi due da una vita che ci conosciamo, non è vero ma non importa Ci conosciamo da me Non importa Ma sai che non me lo ricordo neanche? Ma neanche io mi ricordo come ci siamo conosciuti, ma non importa questo Va bene, iniziamo subito la custom Allora, questa qua, la custom map ragazzi, è davvero molto molto bella Abbiamo provato tipo un attimino all'inizio, ci siamo subito appassionati E andiamo subito avanti Non spieghiamo tanto la storia che la scopriremo Ok Quindi, facciamo easy o normal? No, facciamo normal, via, ora l'ho fatto Ok Sì, a parte la stanzina, dai, vediamo Oddio, non ti vedo neanche laggare, non ci credo Allora, cosa dice? Press, ok Vai Ok Oddio Oddio, quanto è brutto È bellissima sta texture Dai, uccidiamolo Magari c'è qualcosa da prendere qua Allora, questo è il disco Sì, quando uccidio un boss, ti ha il disco, lo devi mettere dentro Ok, eccolo qua Eh, bravo, ti sei pure rubato l'esperienza Che miseria Ecco, infatti è aperto la porta là Molto bello Ok Grab the cast log Ok, ne prendo uno E io ne prendo un altro Ok, ho capito tutto In inglese, perfetto Ok, ho capito Allora, prima questa Salvare Victor e i suoi amici dagli zombie Puoi trovare loro nella piccola casa davanti al maniera Sì, sono nascosti Ok, perfetto Ok Poi vabbè Bene, fine del tutorial Press the button Vabbè Chi è questo qua? Warning The hard to kill Ah, sono equipaggiati anche Bene Posso ammazzarlo? Boh, non penso che ci riesci a troppo equipaggiare C'è il vetro Ok, perfetto Dove dobbiamo andare? Oddio, mi ha fatto un colpo Mi ha tolto quasi tutta la vita All'avvicinarti Ma cosa è in mano? È una spada Ok, la possiamo andare Ok, dai, fine del tutorial Via End of tutorial Ok Did you really read it all? Ok Bello, bello Mi piace Cest, cest, cest Cest, cest Cest Oh, prendo io Bello, mi piace tanto sta texture Allora Dobbiamo andare di qua Vedete, oh, ci sono scritti anche i danni che fa Fa 4 danni questa qua Bene Dobbiamo andare su questa strada a questo punto Oddio, spettacolo Cosa? Spettacolo che ti fa vedere anche i danni Sì, vero? E dopo penso che anche l'armatura Oddio Sono incappucciati Sono i Ku Klux Klan Attento Ti vengono a prendere No, ma c'hanno la pala in mano Sì Però fanno mai lo stesso Sì? Sì E' mia l'esperienza Ah, muori Mia, 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 mia Muori Ma non posso uccidere Ah Muori? Che sono gentile Però l'esperienza me la faccio io Sono ancora di livello 1 Cosa sono ste cose? Ma no, sono le... Luci Sono sempre sezze Ma come cacchio si chiama? Vabbè, ho capito Mamma quanto hai fatto bene Sì Ah, cazzo era entrato No, 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 no Vittor 6 Help us Stranger zombie are surrounding Cazzo Ecco Sapevo Fa il culo Sei morto? Sì Oh, mi rimangono le cose però Figo Ok, anche l'esperienza mi rimane Ti devo tippare? Si è tipo incastretta nella tag sullo zombie Mi continua a menare Ti devo tippare? No, no, tranquillo Sono già arrivato Cazzo Che figo sto albero Oh, ecco qua la casetta dei tipi Ma quanto è bella È bellissimo È stupendo Beh, hai visto il maniero? Nelle immagini? Sì, infatti È bellissimo Muoviti che sono tanti Questa qua ha una spada Mi droppa qualcosa? Oh, sì Ho una spada più figa della tua Anche a me No, me l'hai presa a te, stronzo Oh, no? Perché non ce l'ho? Vabbè Thank you Ok, qui siamo andati È ancora pieno di zombie Darmi la casa Ma non importa Oh, non ho capito Però come Allora Ma se entro da qualche parte O perché qua c'è un ender chest Mi sa dentro Dove? Ma se dentro Ah, ma da qua si entra Vaffanbari Eh sì Mi trovavo l'interno Eh, l'endercest serve tipo per Per salvare le cose Per salvare Oddio Oddio C'è una spada Prendila pure Eh sì, infatti La mia sei rotta Anche la tua Mi hai droppato una carota Mi hai droppato Spettacolo Ok Guardate il maniero ragazzi Guardate che cazzo di nard che hanno fatto Cioè Sti assicura di nard Ho fatta io sta custom Ragazzi Hai fatto tu? Ma per essere di Ma qui c'è ancora qualcuno Qua dentro Eh dentro ci sono i tipi Che abbiamo salvato Ma vaffanbari Spettacolo Io ma Cos'è Allora vedi Con quattro rotta in flash Ci possiamo prendere due bisteccone Oh qua ci sono Delle stone sword Te ne do una Te l'ho lancata per terra Ok Bello C'è altro O no? Ah questa è una crafting Perfetto Perfetto Cos'è Le lasciamo No non possiamo lasciare niente Mangio una carota Si può dormire? Eh ma Non è inutile dormire C'è soltanto un letto Noi siamo in due Me lo give se vuoi Non c'è problema No no Tanto comunque Spogniamo qua vicino Si infatti al massimo Quando siamo dentro Tu mangi qualcosa? No no sono pieno Grazie Allora Quindi la prima quest è fatta Ok Queste due Vai verso la cripta E trova il re scheletro Uccidilo E usa la musica Va bene Musica di scherci Dile giù box Quando è fatto Abbi la cortezza Che è luttato La gold nugget Victor will be able E Victor Potrà scambiare questa Con degli oggetti Molto fighi Molto fighi Molto forti Ma Adas è cresciato? Si Ok Ci sono Ti aspetta E a me ogni tanto Sto tenendo un server Con una connessione di merda Dai Andiamo La cripta è quella là in parte Penso Muori Oddio ma quanti sono Ma questi Ma questi Eh qua sono quelli Inserci quelli pro Oh porca trota Quanti sono Eh attento Questi qua Appena ti vantano Questi qua si è morto Attento Però droppano Gli equip Ecco Come non detto eh Tanto per Vabbè intanto Rimane tutta la roba qua Si infatti No ma sai cos'è il bello Che ho visto Nel sito ufficiale Di questa ma Quella che mi è passato C'è scritto Tempo di gioco One hour Or two hour Va bene Va bene Sono 4-5 episodi Tranquillo Ok No dammi Hai preso un po' di equip Questi qua sono miei Di cosa? Guarda gli equip Ho una Tilos Strangel Leggings Che ha Protezione 1 Protezione a proiettili 1 E un breaking x Io c'ho Chain Chestplate Projectile Protection 2 Basta Ok E io c'ho anche una spada Che ha sharpness 2 Bain of antropomis 1 Smite 1 Breaking x Un breaking x E togli dall'8 al 12 Vabbè Tieni Tieni E Non andare per di là Non andare per di là È qua la cripta Guarda la quale cripta Vedi Vedi chi sono le tombe Queste cose Scusa Scusa Ma quante gente c'è No è normale Stanta roba Io voglio un arco però È un cimitero Ovvio Ah Te lo lascio a te Quando vado a prendere gli altri Dio sto morendo No porca trota Sono andato nella cosa del Nel Oddio c'è una freccia in testa Bellissimo Ok vai entriamo Vediamo cosa ha questo arco Ok ha anche le frecce infinite Quindi a posto Anch'io Sì ma non ho neanche una freccia Allora è inutile Tieni Una ce l'ho Ok Va bene che Faccio io il tank Perché ho la spada più figa Lo stai registrando? Sì Ok bello Wow Che shot che gli ho fatto Era anche tipo in laterale No non posso riprendere No non posso riprendere Oh test 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 Ho una poione della rigenerazione E un'altra spada Medara The skeletal king should be in there Oh dietro Ma porca I'm showing no more about the aerobrine pain Ah ok Quindi dobbiamo scoprire i piani di aerobrine Ci troppa tipo un arco No eh Ma ne ho un altro io se vuoi No 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 A posto a posto Ce l'ho qua Ho trovato però un iron helmet E basta Che bello sono Tu sei sceso? Sì No sono qua Ah ok bello Fai il giro Oddio Lì ce ne sono Oh Due colpi basta Ma c'è uno che sta facendo il giro per dietro Io ti prendo da dietro Ti prendo da dietro Ok Oh quante roba mi hai buttato giù L'hai preso tutto te stronzo? Ah no ok No non ho preso niente Ok ok Bene Anch'io sono equipato figo Oddio quanta gente c'è? Muoio 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 Porca trota muoio Ti aiuto io Tutti ce n'è? Muoio muoio Ne ho tre quattro Ah ma se non è quello di ecco Ah Sì ti vedo che sembra uno scheletro Te lo giuro sei uguale Eh sono un pirata Oh oh Arg Hai preso qualcosa? Io ho preso una niente Un altro arco Io ho i fit Allora se vuoi Ho in più dei leggings E una cesta Mi bastano i leggings Tu hai Tieni Passa Ok Aspetta che mangio Perché Hai notato che la rotella di flash non ci dà Sì sono avvenuto Come non detto No perché non mangiate cinque prima niente Vediamo Ok si è aperto Mi sembra strano che sia così facile Sì infatti stavo dicendo Vabbè basta che ci divertiamo Bene mi sa che c'è già un po' qualcosa di più complicato qua Ok ieri te con l'arco Quanto cazzo mi ha preso da dietro Prova tipo A buttare dei semi No non funzionano su quelle di È vero c'hai ragione Oddio Oddio Mi ha combinato Oddio 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 quanti sono Oddio 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 Abbiamo già ucciso il re Basta, finito Hai i gold nugget per caso No, non ho niente Se vuoi ho tre archi Uno te lo posso dare No, è perché il boss dava i gold nugget Guarda la freccia che ho piantata No, no, qua ci sta uno screen Aspetta Sorridi Ok 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 Andiamo avanti Si è aperta questa Ah, scaletto Ok, qua c'è qualcosa Ho una cesta o dei fit, se vuoi Ti serve fit? Fit, ti servono? Se tu ce li hai e me li puoi dare, sì Sì, sì, non ce ne hai in più Ma non muore Oddio Arrivo io con la super spada Io ho la spada di Storm Eh, io c'ho quella di Iron La nostra mega potenziata Allora Tieni, allora C'ho i fit Eccoli qua Tu vuoi? No, vabbè ce li ho già Ce li ho Eh, vabbè, tienili Sono stra pieno di roba Sono stra pieno di roba Tieni pure Ok C'ho anche un Iron Leg Se vuoi No, hai detto che ce l'hai Ok Eh, sono stra pieno io di roba Ok Io sono finita la spada Porca miseria Io ce l'ho infinita Che cane Comunque Qui c'è qualcosa C'è qualcosa? C'è una leva, la tiro? Vai, tira L'hai tirata? Ora Ah Aia Oddio Oddio, che c'è sta roba? Oddio, quanti sono? Oddio Oddio Aia Ok Posso fare un bel po' di roba? Niente Test O un'altra spada come la tua Come la mia, cioè Grazie, eh Rubatela Adesso te la do Sia identica Tieni No, no Basta, basta È là Prenditela No, no Quella legò il dito questa Cosa è che? Pensate Ok, qua ci sono due leve Qua c'è un'altra test Qua sono tipo le prigioni Sembrano Ok Qua c'è? Io ho trovato una bistecca Se vuoi te la do No, no Sono pieno, tranquillo Come fanno ste leve? Io la tiro Io tiro questa Ok Oddio Ma quant'è bella sta mappa È stupendo Ok Niente di che Io mi sono rubato la spada Io mi sono rubato metà tocchi Sì, ma è uguale praticamente Sì, sì Ma cos'è che vuol dire Bein o Vartop Sai che non lo so Non ho mai capito Quell'incantamento Cosa serve Sì, io li so tutti Ma quello no Aspetta, ti ho perso Sono qua Che sto esplorando tutte le C'è un'altra chest Forse una l'ho già aperta io Quasi tutta l'ho aperta Qua c'è un'altra Ok, c'è un arco figo Com'è che è? Guarda tutti quegli altri Però soltanto che non è rotto Quindi uso quello Ok Anch'io ce l'ho uno che non è rotto Quindi tranquillo E se vuoi c'è una chestplate di più Se ti serve No, no Ce l'ho anch'io Oddio, cos'è sta roba? Oddio Ho trovato una pozione Qua c'è qualcosa Non so cosa sia Penso che bisogna andare per di qua Dove? Eh sì Decisamente perché io vedo tutto in ombra adesso Anch'io Come se fosse in parte la bedrock Quindi bisogna venire per di qua Io? Tu hai messo la luminosità al minimo? No, no Ma penso sia proprio una cosa della mappa Io l'ho messo al minimo Non vedo niente Eh, dark test cui consumi Sì, infatti È una cosa della mappa Oddio Ci sono gli enderman No, loro no Loro no E tu vai a destra e io vado a sinistra, ok? Sì Oddio, l'enderman Ah, cazzo Hai visto che skin hanno? No, mi ha butto così Sono la skin di slenderman Vabbè, riparto da qua Bellissimo Ah, c'è il Cosa che puoi partire da qua? Perfetto Hanno skin di slenderman gli enderman, hai visto? Cosa? Ah, che hanno la skin di slenderman Sì, di slenderman Oh, ma questo qui Se mi fai spawnare è io Oh, no Mi ho preso da dietro No, 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 no Vaffanculo Bene Oddio, sì Ne ho buttati giù due cose di enderman Con l'arco Mori Mori Oddio Sono morto No, sono vivo Sono vivo Ho un mega bug Ovvero che No, ok Ho visto per qualche secondo Oh, che miseria Cosa? Senza il buio Ho visto qualche secondo senza il buio Ho visto l'uscita Spettacolo È tutta a sinistra Allora Se guardiamo Madame Archie fell out the world Madame Archie fell out the world Madame Archie fell out the world Perfetto Ancora, stessa roba Bene Ok, l'uscita là in fondo ragazzi La vedete Adesso andiamo all'uscita Io non la vedo Io sì Tipo ho qualche secondo di lag Penso in cui posso vedere Che cane che sei Ma non si può fare il doppio salto No, non puoi fare la corsa Io non la posso fare Sì che la puoi fare La corsa non me la fa fare Oh no Boh non so Comunque ce l'ho fatta io Ok, ci sono anch'io Boss fight Skeleton king Press button Ok, sei pronto Ok, sei pronto? Un attimo, un attimo Ho mangiato Ci sono Ok, aspetta Fallo a te Ok, ci sono Abilities minion Welcome to my domain Can you please me Ah ok Can you please die No, non voglio Avete capito insomma Ma porca miseria Ma hai visto cosa ha fatto? Non riesco più a muovermi No? Ah sì Ti ha bloccato nel Muori Rai di merda E io faccio fuori minion Ok Sì, io sono nel Aspetta Ok Eh sì ma cazzo Ok Merda bastardo Ti fracca troppo indietro Guarda che roba Devi morire Oddio È durissimo da uccidere Guarda quanto cazzo Mi ha buttato indietro Devi girare Devi continuare a girare Guarda come faccio io Non ti fa niente Eh Mi ho beccato soltanto una volta Ma Oddio che c'è sta Oddio mi ha droppato una cesta Strafiga Voglio continuare a fare i colpi Ma non gli faccio niente Boh magari tantissima vita Guarda guarda dove l'ho buttato Bella È impossibile Io provo con l'arco Devo fare Sì ma devo anche mirarlo Aia Cosa c'è per lì qua Qua c'è un Oh ma è impossibile da battere Qua c'è dell'acqua che mi dice di usare MC Patcher Molto bene L'hai ucciso? Sì Cosa ti ha dato? Come ti dice di usare MC Patcher? Eh si vede che non l'ho appazzato Qua c'è Mi ha dato L'elmo d'oro Che non fa niente Quindi Mi ha dato un disco È da mettere qua il disco Ok Mettiamo il disco Mi ha dato un arco Mettiamo subito il disco Dov'è che hai disegnato il disco Che non ti vedo? Ok Uh che musica Ok Mi ha buttato giù un altro arco No no ti prego no Oh questo qua è È blu Angelic 7 mi dice Quindi è più pro questa E infatti fa 4.18 L'altro faceva 3.15 Dov'è che sei? Oddio che figata sta cosa Ma dove sei? Ti ho perso io No no ero ancora dentro Io sono nella cripta Oddio Cos'è che hai? Cosa? Non hai visto che è caduto Un fulmine appena qua? Eh sì Adesso l'ho visto Adesso adesso l'ho visto Buon Quindi mi ha detto una voce Before I engage Any urban security We should look around Before upgrade Ok Dobbiamo andare allo shop Per gli upgrade Ok perfetto Ma Quanti livelli hai? 7 7 Cacchio Io ne ho 11 Eh ma tu hai preso L'esperienza del boss Ma io non riesco a correre Che beh fa niente Ok vediamo cosa mi dicono i belli qua Allora con 4 pepite Una Una cosa del demonic set Io mi sono preso due pezzi di carne Da questo qua Eh adesso che lo faccio Cos'è sta cosa? Spider-ray No spider-ray non ne ho purtroppo Rotten flash potionovelli No Ti do tutta la rotten flash così la cambi Tieni La cambio? E c'ho anche un golden nuggets Sì nuggets Eh chi ne ha uno? E dice che ti cambia con una pozione Berserk No no ti indico il nugget Perché quest'altro ti da i pezzi dell'armatura strafiga Con i gold nuggets Ok ok perfetto Allora mettiamo Cambiamo tutto da rotten flash intanto Intanto io metto giù un po' di schifo che ci abbiamo qua Allora 26 pezzi Ci da esattamente Ci da esattamente 13 pezzi di carne E via Te ne do metà se vuoi Ok L'ho buttati per terra No ma pensavo fossi te quello davanti Che ne porca Allora Vediamola questa Te la cosa dice di fare? Oh non mi fa più prendere il coso Allora dobbiamo Dobbiamo entrare nel maniello E trovare gli accoliti Di roboline Ovvero Areita Il ragno Zato il mago E Benettia La strega Dobbiamo ucciderli tutti Per 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 accedere a aerobrain Diciamo E bloccarlo Perché deve Summonare il guiter Sul nostro mondo Ok Ma te la sei presa la carne per caso? Io ne ho tre di carne Quindi no Non l'ho presa Ma chi è che è una presa? Se l'hai rubata qualcosa lì Allora tieni Ti do questa qua intanto Ok Presa? Oh si quanta roba Bene 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 Ok perfetto Possiamo andare Dai andiamo Fammi strada Guarda io sto facendo il doppio cosa E non mi fa correre Ah ok Ok ho capito il perché Cazzo guardate che roba Che è sto maniero ragazzi Oh posso correre adesso Bellissimo Bellissimo Guarda che pro Guarda che pro Oddio Non l'ho neanche preso Però vabbè questo Mi ha droppato un'altra spada Oddio là c'è uno scheletro Uccidiamolo No ma questa cosa qui con infiniti è tanta roba però Sì Mi ha droppato Mi ha droppato Ok Ma io c'è tutto incantato Spettacolo Sì sì Tutto incantato Me l'hai data? Sì sì te l'ho data Ah Nisa ok l'ho trovato Ok Dimmi che ha infiniti Perfetto Infiniti Perfetto Possiamo entrare? Sì sì entriamo Ti ho perso Cazzo sono tanto più forti questi Sono dentro Appena dentro Ok Direi che Visto che è immenso Esplodiamo un'alla alla volta Sei dentro? No prima andiamo di qua dai Andiamo di qua prima Ma dove sei? Di qua Dalla parte opposta Di dove stai andando Va bene Andiamo per di là Ok andiamo per di là dai Via via Mi ammazzano Via No Oddio Hai visto quello piccolino? L'hai visto? Era tipo che correva avanti indietro Velocissimo Ah Quello piccolo Sì 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 Ma poi tipo ci sono anche quelli lì Sai quelli che trovi vicino al land Quelle specie di pesci Cosa non so Cosa sia Di silverfish Di silverfish no? Senti poi io ho fatto un mondo Con un amico Che mi ha messo sul suo canale E tipo Abbiamo Stiamo spawnati In una casa Cioè abbiamo fatto una casa E dove spaccare In un blocco c'erano i silverfish Scendiamo E c'era l'ender Così a caso Comunque queste penso siano le cucine Sì decisamente Vediamo se c'è qualcosa dentro Le fornacce Ah ma Dio che figa la skin Bellissima No Mi sa che non c'è niente No non c'è niente dentro Sì da usare MC parcel Anche il fuoco mi dice Usare MC parcel Ok Ma sì Fa niente ragazzi Fa niente Guardate quello piccolino Quanto cazzo corre Cazzo Questo Mi uccide aiuto Ma cos'è È l'industria Cazzo È troppo veloce Ma cos'è tipo Uno zombie pigment Piccolo Sì sì Corre tantissimo No non è un zombie pigment Perché se no Non ti attaccherebbe Ma tu c'hai la luminosità proprio al minimo minimo C'è tipo qualche percentuale No no al minimo l'ho lasciata Io non vedo niente qua Dove sei? Dove sei? Usare MC parcel Usare MC parcel Usare MC parcel Bene Oddio No 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 Ma che sono stupendi No no È tutto rosso che mi dice Usare MC parcel Ecco adesso muoio Se no te lo passo su Skype veloce No no ce l'ho eh Che non l'ho usato ancora su questo Su questa persona No Stavo uccidendo da solo Ok Andiamo uccidere questi qua E dopo vediamo sulla cosa c'è Ok uccidiamo questo No no mi ha preso da dietro Vaffanculo Dove sono spawnato Oddio Oddio Ok arrivo Sei tipo in una tomba sei Sì Che figata Spani nella tomba E sarà fatto bene Ok Arriviamo là Dopo facciamo stop Dai Sì ok va bene Per me va bene Spetta che arrivo Devo mangiare Però hai notato che È sempre notte Sì È vero C'è ragione No ma guarda Che l'ha fatta davvero bene Questa mappa Sì Davvero bella Perché comunque Anche usare i command block Così bene Guarda che non tutti lo fanno A parte Ho visto anche la mappa Quella che ha messo Su Minecraft Il tuo amico Com'è che si chiama Il ter Giusto Sì Che ha usato i command block Giusto Se non mi sbaglio Tipo qualcosa del genere No ma tipo Ma i command block Secondo me Sono fatti davvero bene Eh li hanno fatti Per questi i command block Oddio Questo qua Ma perché mi sfracca così indietro Oddio Guarda che spada C'ho sto qua Spettacolo Eh quella che c'ho io La voglio anch'io Ma la deve Me la deve dare Non mi cade Cazzo sono durissimi Da battere questi Ok Questo qua è morto Mi ha droppato Oddio Che figo Oh questo qui non muore Arriva Io che c'è la spada più figa Ma vaffanbani Ecco perché Usavo la spada di Sistone Comunque è duro da battere Sì Dove sei? Torna indietro Torna indietro Dove sei? Eccoti là Ti vedo volare Ti vedo volare Dove sei? Fermati fermati Io ti vedo Sono indietro di te Dove sei finito? Ti vedo volare Scendi giù Lamer Dove scendi giù? Stai volando Ti vedo volare Mi vedi? Ora si Ok vieni qua dai Che facciamo il salutone Vieni qua dai Ah cazzo sei là Mega teleport Stai fermo un attimo Stai fermo un attimo Ma io sono qua Sì adesso ti vedo Ti vedo adesso Sì sì Prova a farmi la Gran saluto Ok ragazzi Il prossimo episodio Andrà in onda Sul canale di Mada Effect Mi raccomando Quindi iscrivetevi Sul canale Tutti mi chiamano Mada Sul canale di Marce Qual è? Ah 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 Ok ragazzi Quindi da Medara E da Marce è tutto Ciao a tutti Ciao a tutti